la fotografia centrale del corriere delle alpi di oggi martedì 3 maggio è dedicata alle auto che transitano anche ai camion a dir la verità che transitano su un nuovo viadotto che è stato aperto al traffico anche se ancora nella forma del cantiere però si transita sul nuovo viadotto il nuovo ponte che è stato aperto al traffico appena nord di castellavazzo comune di longarone quindi sulla statale di alemagna avete presente là dove c'erano quelle due o tre curve strette che di sicuro creavano disagio specialmente quando si trattava di incrociare un mezzo pesante e sull'allemagna ne circolano tanti diciamo poco prima di scendere salendo al passaggio sotto la condotta della gardona la condotta di prelievo di acqua a scopo idroelettrico e poi si entra nella galleria di termine ecco lì quel ponte è stato aperto al traffico è il terzo viadotto di longarone dice il titolo sull'allemagna tra le opere previste per un po i mondiali poi le olimpiadi del 2026 alemagna aperto il terzo viadotto di longarone dice il titolo aperto al traffico in modalità di cantiere il terzo nuovo viadotto lungo l'allemagna nel tratto urbano di longarone in direzione della galleria di termine il viadotto con una lunghezza di circa 100 metri dovrebbe contribuire ad alleggerire il traffico su un tratto particolarmente critico l'intervento è costato circa 3 milioni su un investimento complessivo di 22 per la variante longaronese sono lavori in vista delle olimpiadi 2026 dice così il corriere delle alpi in prima pagina noi siamo contenti che sia stata realizzata quest'opera io ci metto sempre l'amaro in bocca perché sono tanti soldi spesi qui sulla nostra terra e questo va benissimo ma ricordiamoci che stiamo parlando di una strada statale è dello stato e il suo interesse è senz'altro internazionale tant'è vero che poi ogni tanto torna il problema dell'attraversamento delle nostre vallate su una strada che è quella assolutamente non adeguata torna il problema dell'attraversamento dell'utilizzo di quella strada addirittura come alternativa all'autobrennero da parte del traffico pesante internazionale e che si siano aspettati decenni prima di mettere a posto una serie di punti neri come questo è una cosa abbastanza vergognosa diciamoci la verità quindi bene che siamo arrivati i lavori sempre troppo tardi sul tema della della delle strade e anche il titolo di apertura del corriere delle alpi turismo dolomitico stretta su sosta e velocità contro il traffico sui passi e qui è dal mass francesco dal mass che firma l'approfondimento alle pagine 16 17 è andato a sentire le opinioni della fondazione unesco che spinge su navette e funivie per i passi i parcheggi potranno essere prenotati online legge per la montagna passi avanti al lavoro sui criteri per selezionare i comuni questo il titolone di apertura del corriere delle alpi quindi vedete che in qualche modo la fondazione unesco che spinge appunto perché venga limitato il traffico sui passi sui passi dolomitici propone anche un'alternativa ed è se si vuole in parte quella realizzata cortina con il nuovo impianto che sostanzialmente dal centro di cortina consente di raggiungere il falzarego sono due tre balzi e in questo modo insomma tanta gente invece che dover salire con la propria macchina oppure con mezzi pubblici ma insomma o con pulmini privati degli alberghi sul falzarego e contribuendo a creare il traffico su quel passo importantissimo lì adesso si può prendere gli impianti la catena di impianti per arrivare sul falzarego senza inquinare ecco questa è la strada un po indicata anche dall'unesco bisognerà stare attenti perché ricordiamoci sempre che molti dei nostri concittadini bellunesi usano i passi semplicemente per lavoro per connettersi con con le altre realtà c'è bisogno insomma del del passaggio ecco non è che si vada sui passi per turismo noi bellunesi noi bellunesi sui passi ci andiamo anche perché abbiamo bisogno di andare da qualche parte allora ci venga data un'alternativa questo non dobbiamo mai dimenticarlo e sempre su questi temi delle strade è anche un titolo nella prima pagina del gazzettino di belluno e in questo caso ci riferiamo al presidente della provincia e sindaco di longarone padrin che ha lanciato in qualche modo l'allarme dicendo che la strada del vaiont è ormai è diventata una pista per le moto in migliaia erano arrivati da feltre rispettiamo quel luogo di dolore dice padrin non utilizzare la strada che porta la diga del vaiont come una pista è un luogo di dolore e merita rispetto e questo l'appello lanciato dal sindaco di longarone presidente della provincia roberto padrin alle migliaia di motociclisti che si sono radunati domenica per la cerimonia di benedizione del motociclista l'evento è arrivato alla 35esima edizione di per sé non c'è niente di male no si è svolto a feltre con 5000 moto poi longarone location scelta dal moto club feltre per l'alto valore simbolico però poi veder sfrecciare le moto sulle curve divertenti per un motociclista che portano al vaiont è qualcosa di non solo inaccettabile perché insomma si è stata anche di un di comportamenti pericolosi però in qualche modo è una profanazione anche di quei di quei luoghi che c'è poco da fare hanno una sacralità intrinseca con quello che è successo con il disastro del del vaiont ecco allora torno sul corriere delle alpi per mostrarvi quali sono gli altri titoli sulla prima pagina di questo giornale oggi che dicevamo martedì 3 maggio siamo state seguendo la rassegna stampa di radio piave in blu condotta dai giornalisti dell'amico del popolo buona giornata a tutti da luigi guglielmi questa rassegna che viene poi che viene anche trasmessa sui social dell'amico del popolo ovvero la nostra pagina facebook il nostro canale youtube la pagina di instagram tv insomma ci trovate dappertutto gli altri titoli dicevamo di questa prima del corriere delle alpi feltre rissa tra ragazzi dopo la festa tre sono infiniti in ospedale e uno è stato accoltellato i primi tafferugli dice dicono contento e curto che poi firmano a pagina 21 la cronaca sono avvenuti già durante il press play il dj aveva interrotto l'esibizione il caso uffici pubblici su prenotazione i professionisti sono esasperati l'emergenza covid è alle spalle ma troppe amministrazioni non riaprono le porte qui firma dall'anese longarone e max è polemica sul max avanzo nei bilanci comunali il comune immobile accusano le minoranze per il milione e mezzo di euro spendibile che il comune ha in cassa e un principio vorrebbe che i soldi che ci sono vadano tutti spesi le nostre storie c'è il racconto che a me fa una certa angoscia andrà in orbita e sarà messo sulla luna il dna di due cadorini davide minuzzo e suo figlio perché perché si metterà si metteranno si metterà il dna degli umani sulla luna in caso l'uomo sulla terra dovesse estinguersi dice l'articolo e l'idea che l'uomo vada ad estinzione soprattutto per colpa nostra per colpa di noi umani dei nostri comportamenti riguardo alla gestione del patrimonio che abbiamo che è la terra ma anche riguardo alle nostre sciagurate scelte in campo di relazioni internazionali e penso alla guerra in ucraina rispetto alla quale viene da dire basta basta bombardamenti basta morti basta la russia ha fatto un'aggressione pazzesca bisognerà riportare un equilibrio che tenga conto appunto di chi ha aggredito chi però basta morti basta bombardamenti mi viene da dire e penso anche appunto al prezzo che l'umanità intera rischia se questa cosa non dovesse risolversi presto e magari oltre al danno ambientale che già ha prodotto questa guerra dovesse andare avanti con questa conta incredibile di migliaia e migliaia di morti e magari avere un escalation nella direzione del nucleare sono cose che veramente troviamo assurde inaccettabili pericolosissime altro che andare a mettere il dna sulla luna mi viene da dire pensiamo a cercare di conservare l'uomo qui sulla terra senza fare giochi troppo pericolosi sia per quanto riguarda la gestione del nostro ambiente sia dicevamo appunto per quello che riguarda i rapporti internazionali allora andando avanti nelle pagine del corriere delle alpi ho sfogliato avete visto le molte pagine ancora sull'ucraina e sui passi avanti zero potremmo dire che vengono compiuti in questa direzione perché purtroppo così è e troviamo pagina 16 l'approfondimento sulla legge sulla montagna che arriva in parlamento il nodo dei criteri per scegliere gli enti la norma attuale estenderebbe i benefici perfino a roma quindi insomma qualcosa non va no la ministra gelmini l'elenco va rivisto con rigidità e a firmare questo articolo è francesco dal mas lo consiglio è tecnico ma vale la pena essere informati su questa vicenda della legge per la montagna che in qualche modo segna una svolta importante turismo velocità più basse e multe per la sosta il piano per ridurre le auto sui passi la fondazione dolomiti unesco propone una rivoluzione soft per gestire i flussi turistici le sanzioni però saranno severe questo pagina 17 sempre francesco dal mas che firma e firma anche l'altro articolo che c'è in questa pagina un inverno con pochissima neve soltanto nel 2017 andò peggio a proposito di cambiamenti climatici no lo strisione allo sperti e la lettera al vescovo è una seconda casa non chiudetelo le famiglie sono in allarme nessuna garanzia per il dopo scuola 40 genitori si appellano alla diocesi spiegando al vescovo che le alternative sono difficili da trovare quindi quindi lì resta una questione aperta quella dell'ospitalità per le ragazze che vengono dalla provincia a studiare per le superiori a belluno ma anche a quanto pare le difficoltà che potrebbero sopraggiungere per la gestione delle dei bambini più piccoli su belluno che trovano un sostegno hanno trovato un sostegno importantissimo le cui famiglie hanno trovato un sostegno importantissimo in questi anni proprio grazie alle suore dello sperti che non ci sono più feltre rissa dopo il press play un accoltellato pagina 21 trovate la ricca cronaca a firma di curto e di cristina contento no scusatemi dunque sono stati celebrati a feltre i 100 anni del cai del cai di felde la sezione feltrina del cai il cai ha questa vita lunghissima che addirittura per certe sezioni bellunesi precede addirittura l'avvento dell'unità d'italia 24 pagina 24 acc dei 40 lavoratori in distacco alla sest 40 lavoratori in distacco alla sesta solo 23 riconfermati sindacati dipendenti delusi attendevano una proroga esclusi dalla lista dei salvati due delegati fiom e uno film tra l'altro quindi anche con questo risvolto così non bellissimo da vedere sul piano sindacale no longarone bilancio c'è un avanzo monstre l'opposizione si va al rilento e c'è la foto di silvia debiasi consigliere di longarone con la delega al bilancio c'è la foto del cane caos che ricorderete qualche tempo fa era stato strangolato nel 2019 durante una rissa ad agordo una rissa a cielo aperto che aveva visto addirittura questo epilogo per un cane dall'aspetto pericoloso che pure è stato ucciso strangolato durante questa questa rissa bilancio cortina oltre 3 milioni di utile copriranno i maggiori costi il sindaco del ghiedina snocciola i numeri e si compiace per il lavoro del suo gruppo quando arrivamo la situazione era nera oggi i conti sono in perfetto ordine c'è l'approfondimento che occupa grandissimo spazio sul gazzettino sull'ennesimo scippo di cose bellunesi in questo caso rientra tra le pubblicità del trentino come meta per le dolomiti una foto del monterite con il museo di messner in cima al monterite siamo a cibiana di cadore esattamente in mezzo alla provincia di belluno neanche sul confine la foto inquadra le cupole del museo e sullo sfondo il pelmo un tremila favoloso che abbiamo al centro della nostra provincia non è di confine come sono per esempio le tre cime quindi dire che quello è trentino usare quell'immagine come pubblicità del trentino è qualcosa del trentino alto adige è qualcosa di estremamente grave oltre che fastidioso perché una mistificazione che danneggia anche il nostro turismo e la nostra immagine proprio spostando da un'altra parte il turista che potrebbe voler arrivare qui il problema non è della prima non è la prima volta che capita in questo caso il titolo è scivolone geografico altro che scivolone il rite per reclamizzare il trentino il museo di cibiana finisce in copertina indignato il sindaco di cibiana gosetti e de pellegrin dovremmo coordinarci ma se la provincia non fa nulla e e andiamo avanti finché si arriva alle pagine di cultura e società allora tornando al gazzettino di belluno vi voglio mostrare anche qui quali sono gli altri titoli in prima pagina troviamo sotto la testata appunto il monterite per la pubblicità del trentino ora basta nuovo scippo delle vetti bellunesi dal vicino trentino alto adige dopo le tre cime la bellezza del museo delle nuvole di cibiana c'è una foto del famoso cantante ligabue che ha rivelato di ricordare di avere pessimi ricordi su belluno non ci fa una buona pubblicità a proposito da una parte ci scippano il monterite per le pubblicità del trentino dall'altra ligabue che va a dire che a belluno ha passato l'anno più brutto della sua vita il riferimento è al suo periodo di leva la nai ha passato a belluno e non ha bei ricordi di quel di quel momento purtroppo appunto non sono frasi utili a promuovere la bellezza della nostra città qui finisce sotto il titolo in piccolo la foto dell'apertura del ponte alemania mondiale aperto il viadotto tra castellavazzo e la galleria di termine costato 22 milioni costato meno sono l'insieme delle opere che costa così occhiali questo il titolone interessante alla fine di mido si tirano le somme occhiali alleanza con la silicon valley sapete che si chiama così la zona degli stati uniti dove si concentra l'industria informatica prima l'accordo tra luxottica e facebook con la produzione dei raivan stories ora il gemellaggio tra revert e tesla l'auto completamente elettrica di elon musk all'amido di milano la più importante fiera del settore in italia hanno partecipato ben 55 espositori della provincia di belluno leggiamo in lancio piace molto il saper fare made in belluno la più importante vetrina del mido a milano che dal 30 aprile al 2 maggio ha accolto 55 espositori bellunesi su 660 provenienti da 45 paesi diversi del mondo ne è un esempio ma non è l'unico i miliardari statunitensi della silicon valley hanno puntato gli occhi su alcune realtà della provincia dando luogo a collaborazioni uniche una su tutte gli occhiali da sole raivan stories l'ultima tecnologia smart sviluppata da meta ex facebook di essi loro luxottica ricorderete non che qualche anno fa è addirittura arrivato qui mark zuckerberg a visitare la sede di agro di luxottica accompagnato da del vecchio si preparavano questi accordi che poi sono arrivati sono sforzati in questi prodotti mentre tesla dice l'articolo leader mondiale nella produzione di auto elettriche ha avviato un gemellaggio con la bellunese revert queste sono cose molto positive a proposito di luxottica del vecchio qui un riquadro il libro tra 15 giorni la biografia di del vecchio scritta da un giornalista di treviso sarà pubblicata da sperling e kuffer in libreria del prossimo 17 maggio dell'allarme di padrin sulle moto abbiamo detto del cane ucciso anche qui c'è l'approfondimento la foto centrale a 105 anni sfila per la festa del maio lamon maria cavallari salviamo le tradizioni maria cavallari che farà 106 anni a luglio attaccata alla punta del maio in prima linea nella tradizionale festa di lamon l'evento di inizio maggio è tornato nelle contrade del paese dopo due anni di stop e la centenaria è stata la madrina d'eccezione di questo evento bellissima foto bellissima tradizione bellissima bellissimo che la donna abbia potuto partecipare 105 anni in piedi attaccata all'albero del maio pazzesco belluno in movimento ancora fuori dalla vetrina di vignato cioè mancano i manifesti di movimento sulla vetrina che così aperta al pubblico diciamo del candidato vignato per cui non si capisce bene cosa stia succedendo in quello schieramento sedico ed agordo i pendolari attaccano dolomiti bus servizi carenti limane cavarzano e al pago manca solo un punto e qui parliamo di calcio sempre calcio oggi dolomiti charlinza belluno per il futuro spunta il nome di colella io mi fermo qui abbiamo già fatto 18 minuti di rassegna stampa vi raccomando di andare anche ad acquistare poi questi nostri giornali che vi presentiamo noi dell'amico del popolo qui su radio piave in blu e cioè il gazzettino di belluno e il gazzettino insomma nell'edizione di belluno e il corriere delle alpi da parte mia e da parte dei miei colleghi un buon martedì 3 maggio con un abbraccio buona giornata a tutti ciao